È stato affidato un impegno, una responsabilità grossa, visto il tema che ho accettato di trattare e, non per scusarmi, vorrei dire due o tre cose prima di iniziare veramente. Il primo sarebbe di dire che, pensando al contenuto di ciò che potevo dire stamane, e, evidentemente, sono stato spinto a prendere qualche distanza, qualche libertà, col titolo stesso. E la mia conclusione, arrivando alla fine della preparazione di questo intervento, è che non era possibile limitarmi all'Italia, per inserire il caso italiano nel contesto più generale europeo e, in particolare, di due paesi più vicini, la Spagna da una parte e la Francia dall'altra parte. E' importante guardare i fenomeni che vogliamo studiare con maggiore distanza e con possibilità di confronto con altre situazioni in corso. E poi, la seconda cosa, che sarebbe di insistere sui limiti del mio sguardo personale. Ognuno parla della sua età. Sono nato alla fine del 36. Evidentemente, i limiti del mio sguardo sono legati alla mia carriera personale. Da studente sono stato formato all'università da una storia rurale francese che all'epoca era molto dinamica, però centrata soprattutto sulle età medievali e moderni. Basta citare i nomi di un Georges Duby, di un Pierre Goubert, di un Emmanuel Lourou-Ladurie. Eravamo d'accordo per studiare un antico regime rurale. Questo antico regime rurale, al quale l'istorico inglese Peter Laslett, nel 63-65, ha dato un titolo che è rimasto Il mondo che abbiamo perduto. Il mondo che abbiamo perduto. E infatti, sottointeso, che più o meno noi, le nostre società nazionali e europee, hanno più o meno accettato di perdere, come se questa perdita era necessaria e non si poteva evitare. Poi la mia scoperta dell'Italia è arrivata più tardi, nel 55-59, però sempre partendo dalle sue città principali, Milano, Siena, Firenze, Roma, Nabol. Però il mio contatto diretto con le campagne italiane è arrivato dopo, soprattutto nel sud e nel contesto del metogiorno, la Sicilia, che avevo deciso di studiare come un mondo diverso da quello italiano sul quale la ricerca principale dei storici si era concentrato. Avevo come guida all'epoca il lavoro di una geografa francese appena stampata, che è stata molto legata con Lucio Gambi, di cui ha cercato di far conoscere in Francia i studiare la ricerca, con un successo limitato, però è stato il suo merito, cioè una geografa che sceglieva il titolo per la sua ricerca, il tema del lavoro, non lavori e lavoratori, veramente il lavoro. E poi è stato man mano dopo che ho non scoperto, però ho imparato a conoscere un po' meglio l'estrema diversità dell'Italia rurale. Dall'opposizione fa il giardino mediterraneo e i latifondi di Unimilio Sereni della sua storia del paesaggio rurale italiano. Nell'Italia della mezzodria, che ha attratto molte ricerche fino agli anni Sessanta, inizio agli anni Settanta e poi, ispirata dall'influenza, gli storici sono stati influenzati dalla ricerca antropologica. L'Italia della pianura padana con lo sviluppo delle bonifiche, irrigazioni e drenaggio e la creazione di un'agricoltura molto dinamica che ha trasformato tutta la zona. Però anche la montagna, la montagna è interessante vedere che se le ricerche francesi avevano, soprattutto di geografia rurale, avevano insistito molto sulle montagne alpine, pirenei, massiccio centrale, negli anni Venti. Si è aspettato in Italia più o meno negli anni Settanta, lì ancora con l'influenza degli antropologi, per riscoprire la montagna e tentare di vedere non soltanto le città e il loro contatto, però anche tutto il mondo rurale che era al di fuori del dominio diretto delle città. Poi c'è stato evidentemente nella mia scoperta progressiva la terza Italia di Arnaldo Bagnasco di cui parlerò più avanti e anche i contatti con i vari istituti della storia della resistenza, maggiore differenza fra Italia e Francia. La guerra per noi è la prima guerra mondiale, la seconda sono stati tre mesi di guerra nel maggio-giugno 1940 e poi una resistenza limitata nel tempo perché la liberazione si è fatta presto e la partecipazione ai combattimenti è stata dal novembre-dicembre 1944 e fino a maggio sei mesi. Basta visitare qualsiasi villaggio francese per vedere che il numero dei morti sul monumento ai caduti e mettiamo su un rapporto nell'elenco dei morti da due a cento fra le due guerre. la vera guerra che ha segnato le memorie è stata la prima guerra mondiale e poi aggiungerei perché per questa confessione iniziale la mia esperienza personale cioè una zona rurale molto tradizionale intorno a Limoges una città a 400 chilometri al sud di Parigi che ho frequentato fino all'inizio degli anni Ottanta e dove sono passate le mie vacanze e ho imparato a conoscere dall'interno le persone e il funzionamento e la trasformazione di questa società il punto di partenza era nel 1945 e 1950 un mondo rurale che era stranamente rinforzato nella sua vita tradizionale dalla guerra che aveva provocato lo sviluppo del mercato nero però consolidato una pratica di limitazione dei scambi monetari ai ciò che era veramente necessario per il resto il contadino dava un sacco di grano al mugnaio che consegnava un sacco di farina al panificio alla boulangerie e poi si andava a comprare il pane con un bastone sul quale con dei trattini si notava il numero di il numero di panni consegnati lo stesso per la carne una pecora al macellaio e poi un altro bastone e un certo numero di libri di carne questo quanta 550 e 70 anni fa non tanto non tanto lontano da noi ne ho la memoria completa e per voi alcuni di voi avranno letto sentito parlare del libro di Jean Fourastier su le 30 gloriose 30 anni di trasformazione dalle liberazioni fino a metà del 70 fino alla crisi del 73 74 uno studio dedicato al confronto fra due paesi ai quali da due nomi diversi Mamère e Sessac poi infatti si tratta del sud del massiccio centrale dello stesso paese che viene analizzato e descritto nel 45 e lo stesso nel 75 per far vedere come dall'interno a livello locale questo paese di fra 550 e 650 abitanti era completamente cambiato interessante vedere che lo stesso è stato la stessa inchiesta è stata rifatta una diecina d'anni fa per far vedere il cambiamento dal 75 fino adesso dunque è necessario tenere conto dei cambiamenti che sono osservati e misurati a 30 anni di distanza però è lì era la lezione di Nuto Revelli queste misure statistiche descrittive non dicono niente o ben poco sul modo in cui non soltanto questi cambiamenti sono stati vissuti dagli attori e come li percepiscono al punto d'arrivo in funzione ciascuno della sua età del suo percorso personale però anche della parte che hanno preso in questi cambiamenti cambiamenti li hanno sopportati per forza li hanno decisi li hanno accettati sono stati dettati dal contesto e dalle opportunità che si presentavano a loro o tutto nello stesso tempo tutto insieme e si tratterebbe di sapere qual è il giudizio che portano sulla loro vita passata e sul loro futuro una verifica immediata che non è stata fatta però che varrebbe la pena fare dove sono questi contadini che vanno andati a lavorare in città dove si sono sposati dove vanno a passare la loro pensione rimangono in città o tornano nel loro paese e la regola prima della seconda guerra e dove si fanno seppellire cioè come considerano questa parentesi urbana nel percorso della loro vita se guardiamo alla situazione italiana e tenendo in mente il confronto necessario con altri paesi europei possiamo dire che la diversità dell'Italia si ritrova un po' dappertutto Brodell scriveva il suo volume postumo col titolo la Francia è diversità l'Italia è diversità la Spagna è diversità dunque è sempre difficile generalizzare a partire di esempi locali di generalizzare di parlare del paese bisogna evidentemente utilizzare tutte le possibilità di tenere conto dei diversi casi singolari e di avere in testa una sorta di carta geografica del paese di cui parliamo però i cambiamenti a scala macro storica o macro geografica sono comuni a tutti i paesi dell'Europa occidentale cioè la diminuzione del percentaggio della popolazione che vive nelle campagne per ancora molto più forte se consideriamo la percentuale di persone di persone attive che lavorano per la maggior parte del loro tempo nell'agricoltura 50-60% per la popolazione che vive nelle campagne e fra 5-8% per la persona che vive nell'agricoltura cioè sarebbe la situazione attuale secondo tratto comune è stata l'immigrazione verso le città però la differenza viene evidentemente di identificare a quale scala si sono fatte queste migrazioni a livello regionale o nazionale o anche a livello internazionale Italia di più però Spagna anche come il Portogallo hanno questa dimensione questa lunga storia di migrazione di migrazione internazionale quando nel caso francese le migrazioni sono state soprattutto locale regionale e nazionale e poi secondo aspetto dello studio dell'immigrazione sarebbe di vedere quali sono stati i percorsi professionali quali mestieri qual è stata l'importanza relativa dell'industria delle miniere e invece dei servizi amministrativi o pubblici che davano a loro una sicurezza che era sicuramente una mettiamo una delle richieste fondamentali nei mondi rurali da dove venivano cioè la permanenza del posto lavoro e la stabilità delle carriere questo lo sappiamo lo sappiamo tutto una delle prime scoperte sulla Sicilia era stata una storia di un impiegato alla biblioteca della scuola francese di Roma che veniva del Trapanese e il cui zio lavorava alla biblioteca nazionale di Roma la biblioteca nazionale aveva dei scambi di prestito di libri con la biblioteca di Palazzo Farnese e lo zio aveva parlato con la nostra bibliotecaria chiedendo se forse non ci sarebbe un posto lavoro per il suo zio la bibliotecaria aveva detto di sì e due giorni dopo il ragazzo giovane arrivava dal Trapanese è stato assunto ha fatto la carriera lì però ci aveva spiegato che nella sua zona un posto in amministrazione romana costava un anno di stipendio più il voto di tutta la famiglia garantita al padrone a lui non era costato niente non so cosa aveva dato all'unzio però almeno a livello della clientela locale del Trapanese non aveva dato niente evidentemente dietro queste migrazioni dobbiamo identificare tutti i contesti le condizioni delle scelte molti studi sono stati fatti su sull'immigrazione delle miniere francesi per esempio nella Lorena il filmato classico di Villereupt di tutto questo gruppo di questo gruppo di migranti italiani che erano arrivati nel dopoguerra al momento la Francia mancava un lavoro e si è ritrovato dappertutto una forma di coesione sociale di cui di cui il retrofondo era l'origine locale di alcuni paesi principali che avevano fornito la maggior parte di questi gruppi professionali e poi questo lo dobbiamo ricostituire paese per paese e zona per zona poi altro elemento del cambiamento macro economico macro sociale è stato l'inserimento più forte progressivo all'interno di un'economia monetaria come produttori come lavoratori salariati autonomi e anche come consumatori e questo è una cosa interessante da studiare e io faccio delle domande per l'Italia la mia esperienza personale in questo limousine nel massiccio centrale tradizionale che per almeno 20 o 30 anni si è conservato l'abitudine di pagare in moneta in soldi una volta all'anno facendo il compenso fra debiti e crediti e nella mia esperienza di io venivo per le vacanze fino all'inizio degli anni 80 compravo la benzina nel garage facevo riparare la mia auto nel garage e al momento di partire a fine agosto chiedevo il mio conto non potevo mai l'ottenere prima di partire quando si insisteva abbiamo tempo e ricevevo la il conto in italia all'inizio di ottobre per pagare ai tempi dovuti tipo questo scarto culturale è importante perché questo garage pagava tutte le quote sociali pagava dei stipendi pagava le quote sociali e lo stato lo stesso l'abitudine abbiamo il tempo per pagare siamo all'interno di un sistema dove ci siamo sono dei debiti e dei crediti e l'uso della moneta era sempre nascosto e li ritroviamo un valore che ha resistito al tempo ormai è finito per voluto almeno 30 o 40 anni per far cambiare i comportamenti e poi altri eventualmente cambiamenti importanti sono stato e lì sono da studiare da vicino tutti i cambiamenti nel campo culturale l'educazione elementare il collegio l'imparare la lingua ho conosciuto nel mio villaggio l'ultima donna che è morta quasi 100 anni che non sapeva il francese parlava soltanto il dialetto perché non era andata la scuola la scuola d'obbligo era arrivata dopo di lei però era l'ultima eccetera poi c'è evidentemente la vita la vita in famiglia i modi di vita in città quali solidarietà sono state conservate adattate non abbiamo nel caso francese un libro costruito e concepito come quello di Nuto Revelli l'influenza della sociologia rurale mandrasse alla fine dei contadini pubblicato nel 67 dell'antropologia rurale che ha scelto dei villaggi da studiare per studiare le pratiche i comportamenti e ha utilizzato informatori locali è stato molto più forte e ho notato ricercando le recensioni del libro nel mondo dei vinti ho trovato due recensioni su di lui pubblicati in Francia quello di un avvocato di un erudito locale Charles Avocat che era dell'altra parte della montagna nella zona di Barcelonette e che mettiamo e lo studioso locale che ha risposto e reagito immediatamente alla proposta di di Nuto Revelli e poi Claude Ambroise che era rimasto alla statale di Milano come lettore di francese per vent'anni e che era diventato più italiano che francese e l'altro invece il terzo sarebbe Philippe Joutard che ha insistito sul recentemente sulla parte memoriale ricerca sul funzionamento della memoria del libro del libro del mondo dei vinti perché Joutard era specialista del del vediamo la sua ricerca principale era stata elaborata sulla memoria protestante della rivolta delle Sevenne nel sud protestante all'epoca dell'età di Luigi XIV se guardiamo all'Italia di fronte a questi problemi globali che non sono specifici all'Italia vediamo che fondamentalmente il dualismo nord-sud si è mantenuto malgrado tutti i sforzi che sono stati fatti e gli investimenti consentiti per diminuire questo scarto fra nord e sud l'esperienza dei poli industriali quelli di Termini Merese di Pomigliano d'Arco per l'automobile i poli sidologici di Taranto e Gioia Tauro eccetera eccetera sono degli esempi abbastanza significativi e se ho potuto guardare un po' la situazione demografica siciliana ho potuto calcolare nel 90 che negli anni 2000 e 2005 cinque primi anni di questo secolo la 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 popolazione che andava in pensione non sarebbe più sostituita sul posto dalla pensione della generazione che arrivava all'età del lavoro i soli poli che avevano dei saldi positivi erano le grandi città Palermo Catania Messina e una parte del sud-est nella zona del Modicano specializzata nelle culture industriali frutta e verdura per l'esportazione la grande novità è stata la non l'invenzione però il passaggio di ciò che si chiamava l'Italia di mezzo come l'Italia una forma di Italia intermediaria alla terza Italia cioè con il libro di Arnaldo Bagnasco la problematica italiana dello sviluppo 45 e 76 che viene pubblicato nel 77 esattamente lo stesso anno che il libro di Revelli e mettiamo questo era l'identificazione alla periferia del triangolo industriale di una zona molto più dinamica che il triangolo industriale con un'organizzazione in piccole e medie imprese decentralizzate con una produzione più flessibile una base rurale nelle zone dell'antica mezzadria una specializzazione nelle industrie di trasformazione che richiedevano pochi investimenti pesanti e permettevano una forma di decentramento delle attività a domicilio o in piccole fabbriche sparse nel territorio tutto ciò permesso dall'apparizione di una nuova fonte di energia il gas dei supercorti maggiori l'esempio di tutta l'industria della ceramica in Emilia Romagna e questo modello imponeva una forma di via italiana alternativa alla grande industria capace negli anni 70-80 di reagire in modo positivo attraverso la capacità di adattamento alle sfide della crisi per l'ultima proposta della ricerca di Bagnasco è stato di sottolineare il riforzamento delle rete di solidarità sociale locali di cui hanno approfittato ogni volta un grande partito politico del tempo la democrazia cristiana nel Veneto il partito comunista in Emilia Romagna e in Toscana conclusione di Bagnasco era necessario tale organizzazione il colore politico non contava l'importanza che creava una rete forte a livello locale un'ultima conclusione perché non mi volevo limitare a questi anni dove non è caso che questi libri sono pubblicati al 60 più o meno nello stesso periodo citato Peter Lasslett 63 65 le due di prima edizione il 67 Mandraas poi i stessi anni il 77 il mondo dei vinti e la terza Italia mettiamo un certo modo intellettuale ha cercato di partire da un bilancio con conclusione negativa o più positiva con le strade più ottimistiche a una grossa trasformazione che era la fine di un mondo rurale con il rischio di idealizzare il passato e allora io vi vorrei proporre se posso proiettare queste dove passare alla prima lo passa sono partito da studi geografici che hanno cercato di fotografare i cambiamenti osservabili in Italia Spagna e Francia fra il 1991 e il 2006 avevo avuto a disposizione dei studi più recenti per integrare e ciò che hanno messo in evidenza e dopo il calo normale il vuoto nelle campagne con lo catastrofico per alcuni anni prima che questo fenomeno generale però assistiamo a dei tempi di stagnazione a dei tempi di ripresa distribuiti inugualmente a periodi diversi sia nello spazio sia nel tempo all'interno di ogni paese e nei diversi paesi nei diversi nei diversi paesi che si voleva studiare per dire così la popolazione rurale aveva ritrovato nel 2006 il suo livello nel 45 e la stabilizzazione era il suo inizio nell'Italia e la Spagna e questo non valeva soltanto per il settore periurbano però valeva anche per delle zone più lontane allora ho messo propongo questa visione con fasi successivi di forte regressione prima poi di regressione demografica di regressione più lenta di stagnazione e di ripresa di ripresa e passiamo e arriviamo a questo profilo di curve che hanno la loro fase di declino e la loro fase di riprese e allora se verifichiamo prendiamo quello assistiamo per due tempi 91 e 99 vediamo il nero vediamo il nero la il nero assoluto le zone con grandi metropoli e poi tutte le scadenze al grigio al nero al grigio esistono sulle le parti le parti con i tratti orizzontali più bianchi sono le zone dove si continua il declino però vediamo che la geografia di ogni paese è molto contrastata e se passiamo alla fase seguente vediamo che le la la ripresa è più largamente iniziata però lì siamo in uno dei studi a scala delle province o dei dipartimenti francesi e bisognerebbe scendere a un a un livello più 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 dettagliato nel territorio e poi non possiamo parlare delle campagne senza parlare dell'immigrazione che è diventato negli ultimi vent'anni un un grande problema politico però che costituisce mettiamo anche un'opportunità forte ho avuto la possibilità non l'avevo visto prima perché sicuramente molti di voi l'hanno visto di vedere il filmato di Wim Wenders su Riace filmato filmato affascinante perché è seduto di fronte a me conosce bene i sforzi della Calabria per accogliere questi migranti approfittando di tutte le case di tutte le case vuote però sarà anche la conclusione del filmato è che molti sono arrivati si sono stabilizzati e poi sono andati hanno continuato la loro strada e mettiamo pensando all'Italia questo passaggio dell'immigrazione all'immigrazione è stato veramente l'ultimo cambiamento importante e lo stesso vale anche per un grado minore però importante anche per la Spagna che vede arrivare un numero molto importante di migranti subsahariani per la maggior parte che anche loro non hanno tanto desiderio di rimanere in Spagna però di continuare la strada verso l'Europa dunque la storia di cui parliamo è una storia italiana è una storia regionale in Italia come in Francia e in Spagna però è una storia europea è una storia che non è terminata grazie mille grazie